Ciao e benvenuti sul canale. In questo periodo natalizio farò una ricetta di gelatine alcoliche al gusto di crema di whisky. Iniziamo preparando 125 ml di latte cacao, 125 ml di cognac o brandy, 8 grammi di riccola di pesce, 50 grammi di zucchero e degli stampini. In questo caso ho preso dei bicchieri monouso. Allora accendiamo il fuoco e iniziamo mettendo il latte con il cacao nel pentolino. Lo facciamo scaldare a fuoco basso. Nel frattempo mettiamo la gelatina a bagno per 10 minuti in acqua fredda. Intanto preparo la gelatina e ci si vede dopo. Eccoci qua. Una volta passati 10 minuti, prendiamo la gelatina, la strizziamo bene e la mettiamo nel pentolino assieme al latte. Una nota importante, non mettere mai l'alcol nel pentolino altrimenti evaporerà. Quindi il risultato del gusto ci sarà, solamente che saranno molto meno alcoliche. Adesso facciamo sciogliere la colla di pesce all'interno del latte e dopo fuori dal fuoco uniamo l'alcol. continuiamo a mescolare affinché non si scioglie del tutto. Una volta sciolto togliamo dal fuoco, continuiamo a mescolare e uniamo l'alcol. Fatta questa operazione possiamo andare a disporre gli stampini. Nel mio caso, uso i bicchierini, buono uso del caffè. Una volta fatte le porzioni, lasciamo raffreddare in frigorifero per circa 3-4 ore e dopo non ci resta che gustarle. Fatemi sapere se proverete questa ricetta e le varie varianti. Grazie Grazie Grazie